un mese fa solo squadre con un mese fa solo squadre con un mese fa 81 bene del mondo come cazzo fai a fare 81 kill ragazzi 81 kill sono troppe regà come fai a farle con tre amici giuro abbiamo fatto 88 kill si ma questo l'ha fatta da solo 81 regà 81 da solo ne ha fatte regà c'è da solo vabbè ma che start è ma li sta squagliando questo ma non è che è fatta apposta non è che è fatta apposta regà c'è solo bot però comunque gli elevano le placche però parla tanto mi piace rispetto agli altri come streamer sembra mi sembra che è in gamma bravo che give up a qua bravo qua non c'è neanche i coltelli regà mamma mia recupero rapido però lei lei ce l'ha eh cazzo c'ha la colla oh non sbaglio un cazzo regà vabbè tanti gli volano addosso eh tanti gli volano addosso eh madonna raga ma che cosa sta facendo ragazzi c'è prima sempre 21 bombe però mi sembra forte questo eh questo qua sembra bravo cioè almeno smiricchia pure cioè smira ma almeno magari ci avrà qualche snappo però regà c'è 22 kg sono tante regà cioè sta proprio andando forte regà cioè questo sta a spiegare brutto regà qua al di là di tutto cioè io mi dite lo mi botto no io 81 kg non te ne faccio regà cioè questo non sbaglia eh cioè è proprio concentrato però vedi succede qualcuno che gli atterra addosso c'è wait a minute wait a minute hold up wait a minute this is like i've never been on this pace before i've never had this many kills in this zone dude this is wild come here pussy what are you doing però questo di tornei non l'ho mai visto raga è strana sta cosa eh c'è uno così forte di tornei boh perchè non dovessi farli bro where is this guy going this guy is wasting our time right now chet yeah precious time and may not be wasted and it's being wasted by this motherfucker bro all right lock it lock it mamma mia already killed 50 lives holy fuck holy shit jet hey 70 kill game hey chat world first 70 right here or what who's down chet who's down assurdo raga che è impressionante oh oh my god 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 chat oh my god oh my god this is crazy no this is fucking insane pace jet what the fuck c'è 35 kill ragazzi sono tante ragazzi eh secondo me gioca bene, gioca veramente bene, bravo di UAV, UAV lo gioca alla perfezione però tanti gli si buttano addosso eh, madonna mia bro, tanti gli si buttano addosso eh 41 kill raga, che cazzo è? fortissimi, oh no, hold on fidatevi raga che anche se la lobby è botta eh, 81 kill sono troppe raga, è anche bravo raga, è bravo fidatevi sta sfruttando al meglio tutto quello che ha a disposizione, arma con 100 colpi doppia, UAV, lobby semplice, capacità di movement è veloce, va sconosce la mappa bene se vede proprio capito, non sbaglia, via va, pusha pusha, vede l'altro qua due davanti, boom va 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 va, non gli spara nessuno, quello si, no 47 kill, 48 comunque poi, la cosa è che non si uccidono neanche a vicenda, cioè nessuno spara quindi, non si uccidono e lui fa kill il world record era 63 sono ancora mai morto 51, 53, 54 niente proprio niente assurda però è assurda eh assurda eh, 81 kill come entrano i colpi col pad è bellissimo però raga, i colpi col pad come entrano la goduria se sai giocare ma questo sarebbe la fai di fare una god wager gliela faccio fa come fai a cioccarla oh, poi dicono ma se stasera fai le fliccate veloci, i cambi di target non li puoi fare con pad guardate che cambio di target col pad che ha fatto veloce, guarda qua velocizio cadonna 4 con 2, 1 record, io facevo il casino eh vabbè ma raga è ovvio che la lobby è semplice, se no, però è bravo pure lui raga, fidatevi non sta sbagliando un cazzo lui eh, non sta sbagliando un cazzo oh my god, holy fuck, holy fuck, holy shit shit shit, oh my god, 3 kills from road wreck from a 70 jet, oh my god, 2 kills from a 70 kills jet, holy shit, now this is crazy wow, che cazzo è? holy shit, 70 kills, what the fuck, what the fuck, now we gotta win this, we gotta win more buybacks, more buybacks, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, Gli hanno comprato pure Oh oh quasi morto 76 Questa è una bella kill Qua è stato bravo Qua è stato bravo È stato bravo dai 81 kill Oh no Oh no Oh no Oh no 80 kill No No Oh Rimango dell'idea che Al di là che 80 bombe eccetera È bravo e basta Cioè nel senso È bravo lui Molto bravo Bravissimo Bravissimo Certo la lobby aiuta Però quante kill avrei fatto io in quella lobby? Non come lui Molte meno Avrei fatte 40? Non 80 raga capito Cioè lui ha sfruttato Al meglio tutte le cose che aveva Per fare quelle kill là Eh 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 Gli altri magari non ce l'avrebbero fatta Capito? Raga 81 kill Da solo Da solo Raga 81 cazzo di kill raga Come cazzo ha fatto? Raga 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 ystPeople